oggi vedremo come avviene l'installazione di un motore fuori bordo yamaha ma non stiamo parlando di un motore fuori bordo qualsiasi stiamo parlando del nuovo f3 50 il corretto posizionamento del motore sullo specchio di poppa è determinato da una regola estremamente semplice immaginiamo che all'altezza di questa piastra di antiventilazione disegniamo una linea retta che deve congiungersi al punto più basso della nostra carena questa piastra deve essere o alla medesima altezza dello spigolo della carena o eventualmente in una posizione più alta ma mai e in nessun modo inferiore allo spigolo stesso l'f350 yamaha va a completare la gamma un 4.013 cilindrata a 6 cilindri av e 24 valvole questo motore presenta un corpo farfallato da 81 mm è grande tanto quanto i fratelli maggiori della linea xto e al contempo è l'8 per cento più grande rispetto al fratello minore l'f300 il corpo farfallato di queste dimensioni consente chiaramente un aspirazione del 40 per cento in più di aria e il vantaggio è che in questo modo è possibile erogare una maggiore potenza il sistema di ricarica delle batterie è in grado di generare fino a 31 ampere questo sistema e in particolare l'erogazione di energia anche a bassi regimi è un'ulteriore sicurezza per l'armatore che sa di poter contare su energia a bordo in un qualsiasi momento indipendentemente dalla velocità con la quale sta navigando scoperchiando la calandra è subito evidente come il layout di questo motore sia assolutamente compatto riducendo al minimo l'ingombro del motore stesso questo è uno dei vantaggi di questo motore è il DESS digital electronic steering ovvero sia lo sterzo elettrico digitale integrato il vantaggio dello sterzo elettrico digitale integrato è prima di tutto il massimo controllo del motore e in seconda battuta il maggior spazio a bordo specialmente nell'area della poppa nel cuore di questo motore i cilindri fusi al plasma questa tecnologia un grandissimo vantaggio smaltisce il calore generato dal motore stesso e al contempo consente di alleggerire il peso del motore la fasatura variabile come tutti i motori della gamma yamaha a partire da 200 cavalli migliora la coppia a bassi e medi regimi questo consente anche una planata migliore il compito di questo dispositivo è quello di avvisare l'armatore in caso di presenza di acqua nel sistema di alimentazione il filtro decantatore sotto calandra è quindi fondamentale in termini di sicurezza un altro punto di forza dell'f350 è nella trasmissione infatti al suo interno tutti gli ingranaggi sono stati appositamente trattati in modo tale da renderli estremamente resistenti e durevoli la gamma di elica yamaha è assolutamente ampia questo perché è fondamentale avere a disposizione l'elica giusta per l'imbarcazione giusta la scelta dell'elica che aiuta il motore a performare in maniera ottimale deve essere fatta insieme al concessionario di fiducia yamaha l'f350 si abbina perfettamente al nostro nuovo sistema è il master x yamaha presenta alcune novità rispetto alla versione precedente prima di tutto il layout della manetta in questa nuova versione il tasto start stop and power sono integrati nella manetta stessa a differenza della versione precedente dove occupavano ingombri nella console vediamo insieme ogni tasto di questa manetta quale funzione specifica svolge partendo dalla funzione station che serve per attivare eventuali seconde stazioni il tasto neutral hold è importantissimo perché svolge una duplice funzione una volta inserito questo tasto impedisce che accidentalmente si innesse una marcia anche muovendo la manetta per errore la seconda funzione è quella di riscaldare il motore in modo tale da evitare la partenza a freddo il tasto trim assist è fondamentale in termini di performance durante la navigazione infatti grazie a questa funzione il trim ovvero sia l'assetto dei motori viene definito in modo automatico e questo consente di conseguenza di raggiungere il miglior assetto possibile per l'imbarcazione sul lato sinistro della leva sono presenti altri due pulsanti il trim e lo speed control il trim serve per regolare l'assetto dei motori nel caso in cui il mare sia particolarmente mosso o agitato a differenza del tasto trim assist che lo fa in maniera autonoma ma in condizioni di mare particolarmente calmo la funzione di speed control è simile a quella che abbiamo in tutte le automobili che guidiamo ovvero sia grazie a questo tasto è possibile stabilire una velocità di crociera ed automaticamente verrà mantenuta durante la navigazione la funzione di pattern shift consente di gestire la navigazione a bassissime velocità e questa funzione è fondamentale per chi pratica la pesca la traina andiamo ad analizzare ora le funzioni dell'auto pilota sono quattro in totale heading hold course hold track point e pattern steer heading hold mantiene il posizionamento della prua senza tener conto dello scarroccio provocato da correnti oppure da vento il course hold riesce a mantenere la rotta e la posizione della prua e della poppa escludendo ogni interferenza data da scarroccio o da venti il track point ha una funzione assolutamente assimilabile a quella che noi tutti conosciamo ovvero sia alla funzione che svolge il navigatore sulle nostre automobili una volta stabilito qual è il nostro punto di arrivo e la rotta che vogliamo seguire il track point ci porterà esattamente in quel punto in maniera autonoma il tasto pattern steer permette quattro tipi di navigazione diversi i primi tre sono legati all'attività di eco scandaglio e si differenziano per una navigazione a zig zag a spirale oppure una navigazione partner search l'ultima modalità di navigazione si chiama williamson turn ed è la modalità di navigazione che si attua in caso di recupero di uomo amare infine il joystick chiaramente questo uno strumento che consente di facilitare estremamente tutte le manovre in aree particolarmente ristrette e rende particolarmente agevole e intuitivo l'ormeggio di un'imbarcazione il joystick può essere utilizzato con singola motorizzazione oppure in caso di motorizzazioni multiple chiaramente la sua funzione diventa ancor più importante quando i motori sono almeno due o più di due sullo specchio di poppa la funzione drift point è fondamentale perché grazie a questa funzione l'imbarcazione scarrocerà in base alle correnti marine o al vento mantenendo però costante la posizione di prua e di poppa la funzione fish point è invece fondamentale per mantenere l'imbarcazione esattamente in una determinata posizione questo significa che l'imbarcazione rimarrà ferme in un punto potrà eventualmente girare a 360 su se stessa ma non si sposterà stay point è l'ancora virtuale dal momento che le imbarcazioni sono sempre più importanti in termini di dimensioni il nuovo sistema il master x di yamaha prevede l'integrazione dell'elica di prua grazie a questa integrazione l'armatore potrà con maggior facilità ormeggiare anche spazi particolarmente ristretti ed effettuare le manovre in marina con estrema fluidità